Quando arrivano le feste, in questo caso Halloween, molti youtuber sanno che quello è il momento di fare un video speciale che va in onore della festività in quel momento, che può essere Halloween, può essere Natale e via dicendo ma in questo caso si tratta di Halloween, gli anni scorsi più o meno me la sono cavata con dei gameplay ma quest'anno non avevo alcuna idea in mente per questo speciale di Halloween, non sapevo che cosa andare a giocare, che cosa andare a fare però qualche settimana fa mi è arrivata l'illuminazione, c'è un gioco, o meglio dire la demo di un gioco che non è un gioco qualsiasi ma un signor gioco, che non ho ancora provato Come va vicini di casa? Io sono Big House e benvenuti a questo speciale di Halloween ovviamente con la demo di Outlast 2 la demo di Outlast 2 che finalmente è uscita finalmente è disponibile ai comuni mortali che fino adesso potevano giocarci soltanto gli youtubers famosi perché noi non contiamo un cazzo, no? quindi vabbè, comunque tutto perdonato, tutto perdonato grazie Red Barrels grazie che hai fatto uscire questa demo di Outlast 2 ragazzi, non sapevo cosa andare a giocare per questo speciale di Halloween ma Outlast 2, anche se è una demo, mi sembra più che adatto tu sei Blake Langerman un cameraman che sta lavorando con sua moglie Lynn voi due siete dei giornalisti investigativi che non si fanno problemi a prendersi dei rischi e a scavare per trovare, per portare alla luce delle storie dei casi che nessuno avrebbe il coraggio di andare a trattare avrebbe il coraggio di andare a investigare state seguendo una pista di tracce iniziata con il sembra impossibile omicidio di una donna incinta conosciuta solo come Jane Doe le investigazioni vi hanno portato lontano nel deserto dell'Arizona in un'oscurità così profonda che nessuno potrebbe illuminarla e una corruzione così profonda che andare fuori di testa, impazzire potrebbe essere l'unica cosa sana di mente da fare ok, la croce la croce capovolta che c'era anche nel trailer e da quello che sto capendo eravamo su un elicottero che adesso si sta schiantando perfetto no ragazzi fantastico io dovevo fare lo special di Halloween con Outlast 2 anche perché Outlast è stato il primo gioco di questo canale quindi per forza dove siamo fammi ok, ho già capito che siamo un personaggio che porta gli occhiali e senza di essi siamo ciechi come una talpa dai, forza prendi quegli occhiali oh bella fantastica sta telecamera sempre con il tasto F sempre con il tasto F ragazzi perfetto non c'ho bisogno del tutorial perché so già tutto sono un esperto di Outlast comunque ragazzi stavo dicendo che io non mi sono spoilerato nulla a differenza di altri non ho visto la demo non ho visto gameplay e l'unica cosa che so di questo gioco è che non c'entra un cazzo con il primo Outlast in poche parole niente Mount Massive niente Wall Rider niente Miles Hapsher e vabbè siamo qua c'è qualcuno? mi sono perso e sono ferito non c'è nessuno ma anche se ci fosse qualcuno sono certo che non sarebbe amichevole vorrei tanto prendere questo forcone qua per proteggermi ma non posso chi c'è nella nebbia? che io sento camminare? ah! oddio! porca puttana chi era? chi cazzo? chi è? chi è? oh sarebbe un invito ad entrare quello? non è no no non mi fa piacere quello che vedo no! dimmi che fare rumore sempre quel secchiello lì quel secchio lì di merda e nel caso ci fosse qualcuno io spero che lei signore o signora sia molto più educato o educata di quello che mi ha spintonato poco fa ah no è morto beh non dovrò preoccuparmi di essere spintonato quindi puliamola però sta casa eh oh allora ragazzi sta per tornare un tormentone lo dicevo sempre quando dovevo prendere le batterie ok esploriamo c'è qualcuno? porca no 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 mi dispiace condoglianze per quello che c'è di là in cucina non volevo disturbare oh chi è che chi è che bisbiglia? chi cazzo bisbiglia? chi cazzo era? era freddy crew sembrava freddy kruger sto già sul cazzo a tutti quanti in questo villaggio se sempre villaggio si possa chiamare non lo so cos'è qua chi no 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 ok sicuramente stava facendo qualcosa di assolutamente normale con quel coltello sicuramente stava facendo qualcosa che ne so tagliare la carne e preparare la cena ne sono sicuro tutto normale tutto normale in questo posto e sembra proprio che io debba andare a far visita al signore che ho visto qui in fondo ehi la permesso? io non vorrei disturbare lo so che sono un intruso c'è il mio amico mister cuddle ehi mister cuddle e mi accompagni anche tu in questa nuova adventure un avvertimento? un segnale? per dirmi che devo stare lontano? oppure sono vere tombe? anche se sembra molto strano cioè non è normale mettere delle tombe così vicino a un sentiero cioè non è bello no? non è meglio metterle in un posto unico che stanno tutti insieme così perché così nel sentiero boh è scomodo è brutto oh perfetto perfetto dei sotterranei qua è meglio ricaricare cazzo qui è dec... che cazzo è? ho visto una co... ah no era un'ombra oddio e come diceva Hitman e Mastrolindo detto anche Padre Martin nel primo Outlast follow the blood segui il sangue il sangue ti porterà ti porterà ad assistere a bruttissime cose come corpi di bambini credo che siano quello sì 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 un cavallo ad ondolo è per me? cosa? The Ring? che cazzo? perché il gioco laggava da paura? un incrocio fra The Ring e un leaker di Resident Evil perché sembrava... cosa sono sti suoni? io mi... io continuo così eh come dove sono? una scuola? e in perfette condizioni è ormai ovvio che la gente di questo posto appartiene a uno strano culto ma perché questa questa scuola sotterranea? perché siamo andati in un pozzo per finire in una specie di condotto della ventilazione e giù dopo il condotto della ventilazione in una scuola così in perfette condizioni cioè è una demo però vorrei capirci qualcosa non riesco a capire se nella sta... uuuuuuuh Jessica? che ca... un music box? music box di Jessica? oh! cagare! dai a cagare! mi sa che devo andare via di qua è in fretta? no! oh oh oh! oh oh tua tua madre oh oh! oh oh! no 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 ok nell'angolino qua nell'angolino qua sto io tranquillo cos'è? una specie di warrider? è il fratello gemello del warrider? che succede? che cazzo aaaaaaaah! ma che ca... oh! si riesce a vedere fuori? nevica? prima il carry-on così così. Poi arriva il fantasma con i versi così. Jumpscare da non so quale creatura fosse. E poi questo. Teletrasportate in una stanza passando attraverso un armadietto che non c'è neanche più il passaggio. Ma che cazzo sta succedendo? Oddio! È la tipa di prima! Bravo, vai via! Vai via! Se ne è andata via l'ultimo momento. Non posso aprire qua. Devo per forza entrare nella porta dove c'è quella strana ombra. Uuuuuh, suuuuuh, no! No! Combatti! No! No, io scherzavo! No! No, 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 no! Non lagare il gioco, non lagare. Ho capito che sei una demo. Ma non lagare! Va bene, ho capito. Io vado via. Corro via. Volevo soltanto fare dolcetto scherzetto con voi ragazzi, ma a quanto pare non vi va. Mi dileguo. Uuuuh! Uuuuh! Mi cercano... Mi cercano con le torce nei campi di grano. Uuuuh! 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 Nasconditi! Fui! Uuuuh! Questo è quello che succede quando chiedi dolcetto scherzetto alle persone sbagliate. E con persone sbagliate intendo quelle fuori di testa. No, devo sca... No! Non volevo dar fastidio! No! Via! Non volevo dar fastidio! No! Nei campi di grano. Dai, 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 dai. Nei campi di grano. Sì! Scappa! Scappa, scappa, dai! Non è finita! Non è finito! Vai! Vai! Ovunque! Basta che non ci siano loro! Dai che li semino! Sì, vi è... Uuuuh! Oh, di nuovo sti cazzo di occhiali! Muoh! E chi è? Oh! Cos'è? Uno sciamano! Uuuuh! Uuuuh! Cosa? Beh, vicini di casa, sembra proprio che siamo arrivati alla fine di questa demo di Outlast 2. Questa demo non mi ha fatto capire quasi nulla della trama. Tutte ste allucinazioni, robe strane, senza alcun filo di logica. però ragazzi, è stato spettacolare e io aspetto l'ora in cui giungerà Outlast 2 completo questo 2017. Vicini di casa, sono strafelice di avervi portato Outlast 2 demo per questo speciale di Halloween, così come sarò felice di giocare il gioco completo quando uscirà. Se non sei ancora un vicino di casa, allora iscriviti al canale e se ti va, seguimi anche sulla pagina di Facebook e l'account Twitter. I link li trovi in descrizione. Detto questo, ragazzi, stay big e buon Halloween! e buon Halloween! inscriviti al canale